Parrocchia Ministeri Formazione, l'accento della convergenza è sulla terza parola. L'ipotesi è di guardare alla comunità cristiana, la parrocchia, come comunità di pratica e alla luce di questo a verificare quale formazione possibile, di quale ministero c'è bisogno e quindi quale forma di parrocchia. Il testo accoglie l'esperienza che ho potuto vivere nelle mie parrocchie quando sono stato parroco e quindi mi permetto di ringraziare tutti coloro che mi hanno testimoniato la loro passione per il Vangelo e con questa passione hanno interrogato i modi con cui la comunità cristiana si rende disponibile a servire la vita. Il libro nasce dalla richiesta del ciclo di licenza della Facoltà Teologica del Triveneto di poter indagare come è possibile dentro una diocesi mettere in dialogo la proposta di Papa Francesco con i due motu proprio sul ministero istituito con una realtà appunto diocesana e parrocchiale italiana rispetto a un documento pensato per la Chiesa universale. Il testo è un tentativo di sintesi e per questo si presta ad approfondimenti ulteriori nel tentativo di rispondere a un bisogno delle nostre comunità. Grazie. Grazie.